Corie fumogeni per la Salernitana, poi uno striscione di vicinanza al suo stopper coraggioso. Lanzaro, Salerno e Contè. Un nutrito gruppo di Ultras ha fatto visita ieri alla Salernitana, che salenava al Volpe ed ha manifestato affetto e gratitudine al difensore, che aveva deciso di scendere in campo a Catanzaro domenica mattina, nonostante la terribile notizia della scomparsa del papà. Erano in 150 al barco d'ingresso del Volpe, una delegazione entrata in campo per attaccare lo striscione, poi è stato spiegato a Menechini il senso del gesto e la volontà di sostenere la squadra. L'allenamento non è stato subito aperto al pubblico, ma la società ha meditato via libera ad Ultras tifosi che sopraggiungevano a patto di non sistemarsi sulla tribunetta perché inagibile. Così la Salernitana ha avuto il privilegio di allenarsi respirando già il clima partita. Sono stati lanciati i cori, il settore riservato al pubblico è stato colorato con fumo granata, standardi e bandiere. Dopo l'antipasto servito ieri dagli Ultras sabato, la Rechi si prepara ad accogliere i gemellati reggini per rinnovare la festa sugli spalti, ma soprattutto si accinge a sostenere i Granata, che non possono steccare l'appuntamento con i tre punti. Sarà determinante la spinta dei tifosi, ha detto Lotito. Ci sarà anche mezza Roma. Il popolo sogna e comincia ad acquistare i biglietti.